bene a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video in questo video continueremo la carriera con la spalla ricordiamo questa è la squadra abbiamo fatto due acquisti con usens e nonno tavaras cioè sarà infortunato ora andremo a vedere tanto è non possiamo fare altri acquisti perché a meno che non ci arrivano richieste perché abbiamo giusto un milione quindi è un po difficile vediamo un attimo sala quanto è infortunato questo video andremo a giocare contro l'atalanta e bologna il calcio mercato e se riusciremo anche ragazzi siamo arrivati alla partita questa è la squadra andiamo dentro prima partita contro l'atalanta era un po che non gioco a fifa devo dire sinceramente queste sono le mani ci vediamo in partita allora ragazzi eccoci qua in campo per la prima partita c'è tania cussi qua vediamo subito palla gommet attacco per con senso e malinowski brutto dio giustino allora si riparte la portiera l'etica buon infatti non notavo adesso un nuovo acquisto la gira dall'altra parte bruttissima di erano malinowski gommet dentro per muri all'esce il portiere dentro il gal per muri oh peccato vabbè ci sto mur già lo francesco ma perché sto passaggio la gira per gossens gossens dentro il pallone c'è lei ma adesso fuori gioco ma non è fuori gioco what vabbè palomino spazzaria sala pares gossens un altro nuovo acquisto dietro per petagna davo parata di collini calcio d'angolo bruttissima di olito muriel battere il calcio d'angolo la mette in mezzo petagna poi uno tavarese duval la toglie è ancora buona caldara ancora calcio d'angolo muriel sempre a battere il calcio d'angolo dentro per petagna eh non la riesce a prendere muriel muriel va via attenzione muriel parte muriel nessuno lo riesce a fermare muriel muriel ha più veloce di buoni pazzi un mezzo luvan sala la salva sala la salva sala murgia buono il pallone dentro per di francesco di francesco di francesco di francesco pares murgia di francesco di francesco di francesco di francesco potrebbe partire quello che fa fa la finta del tiro di francesco di francesco di francesco di francesco di francesco gol vicari bella chiusura davo perdi palla davo malinowski che un piuttosto che un piuttosto che un piuttosto che gol di malinowski di francesco di francesco di francesco di francesco di francesco di francesco che la mette in mezzo bruttissima questa cosa ah occasione buttata non riusciamo a segnare fanno palleggi oh e non la palla gomez muriel ah ma perchè siamo così pochi si mette in mezzo gomez palo buoni fazzi di francesco la lascia scorrere di francesco ancora di francesco bravo di francesco attenzione di francesco di francesco di francesco bruttissimo tiro no 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 poi ti temi se devo togliere la telecronaca perchè magari da annoio quindi uff ci prendiamo per il secondo tempo battello mattano loro muriel duvan ritorno indietro a dunk deron duvan in quel senso pares no pulito pallone duvasse passa dietro al pallomino dunk gomez attenzione corrisse la può mettere in mezzo vicari la chiude grandissima vicari sala vuoi partire benissimo fare sparte veloce torna indietro gomez non è un buon portiere occhi al tiro dalla bandierina ci mette i pugni e allontana l'etica gomez va con il possesso palla oh gomez nonno taveres nonno taveres nonno taveres nonno taveres bravissimo nonno taveres no sballa nonno taveres duvan meno male che se l'ha mangiato duvan dai che la tieni niente ripartenza petagna la da dentro fares la tiene per petagna che la lascia scorrere ah peccata era una bella azione attenzione davo fortissima no fares urgia porca vacca pares petagna si gira petagna no la tolgono proprio lì dai piedi caldara froyla piccoli gomez potrebbe allargarla quello che fa non ha senso bravo sala pares possiamo ripartire veloci possiamo ripartire veloci pares non da indietro per non ha senso invece di francesco di francesco per la doppietta moltissimo tiro moltissimo tiro ditemi anche nei commenti se preferite se se posso portare cioè se volete vedere anche nel canale su fifa ultime team che è una bella modalità cioè io prima di cioè prima di smettere di giocare ci giocavo tanto infatti avevo una bella squadra che mi si vuole rinicio attenzione intanto gomez fallo 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 arriviamo migliore alla ricerca che ci sono troppi buchi mi dirà così intanto petagna petagna dai la sbaglio come senso la gira dire al mur già può dare alta ahhh ha sbagliato bravo mu sale sala può metterla in mezzo come senso dietro petagna petagna tia nooo attenzione la palla è lì porca vacca non riusciamo a segnare non riusciamo vabbè l'hanno dominata comunque questo partito tank luvan ecco guarda che buchi che abbiamo guarda che buchi che abbiamo guarda che buchi che abbiamo guardate che buchi che abbiamo bravo l'etica portiere sulla traiettoria nessun problema Coussens petagna attenzione fa il velo petagna vento per Coussens no è Fares è Fares è Fares è Fares nooo cosa ho sbagliato cosa ho sbagliato Fares davanti alla porta attenzione un rigore in movimento dai puro imediare petagna fares dentro eh ormai è finita è finita eh si pronostica una una carriera molto difficile non lo sapevo fin dall'inizio non lo sapevo fin dall'inizio no ho sbagliato vicaricari vicaricari vicaricare ancora non usavano da boh di francesco è partita Coussens che torna indietro d'accordo grazie tanto a Matteo Barzani dentro ed è finita qui finisce qui partita spalla ad avanti perdiamo in casa 3 a 1 rotto 3 a 1 eh cosa così funziona qua c'è il gol della gloria trova da lì di francesco non entra non entra non entra prima partita andata andiamo avanti allora ragazzi partita contro il Bologna queste sono le maglie questa è la formazione ci vediamo in campo eccoci qua i fronti per partire Bologna spalla speriamo che vincere perché la scorsa contro l'Atalanta non è andata molto bene ci portiamo male ti dite Sala Gurgia perde Santander Borsolini Santander meno male l'ho sbagliata ahhh attacco che da parte del Bologna meno male ci serviamo con Sala Fares Cusens la gira dall'altra parte di Francesco vai corri di Francesco corri di Francesco corri di Francesco corri di Francesco corri come non hai mai corso l'ho sbagliata davanti al portiere l'ho sbagliata non ci posso credere non ci posso credere ahhh anche nella scorsa partita ce ne siamo agliati dico Cusens Dabo Nurgia cacchio perdiamo palla Santander Poli Orsolini Suriano dentro per Santander eh sì ma l'etica le saponette le saponette le saponette le saponette le saponette devo assolutamente cambiare almeno il portiere no non arriva nell'offerta perché è arrivata l'offerta per Vicari ma Vicari è il miglior difensore che abbiamo non posso accettare ragazzi stiamo attaccando noi Pares dentro dalla passa no che occasione buttata che occasione buttata dai che la prendi Santander niente ci attaccano di nuovo loro siamo troppo sbilanciati siamo troppo sbilanciati bravissimi vicari da boh 1-2 con Fares che ci arriva bravissimo Fares dentro per Cousins 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 sì 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 Cousins il nostro numero 7 il nostro Cristiano Ronaldo bravissimo Fares bravo partono loro invece Emerson questo bellissimo è Emerson Poli Poli punta l'uomo Poli non ci credo ma ragazzi ma la nostra difesa la nostra difesa dov'è? è davvero un grande vattaggio tattico e psicologico saremo tanti gol sarà molto difficile questa carriera secondo me per portare fino in fondo questo risultato Cousins da boh Muro già dentro per Di Francesco non la prende non la prende ora ripartono di nuovo loro siamo troppo sbilanciati non l'ha chiuso non l'ha chiuso non l'ha chiuso ma vuole almeno una cosa l'ha fatto di Francesco Cousins Francesco può correre è veloce dai dai dalla dietro non è lui dopo tira no conclusione pure adesso dentro per dopo dimmi che non è fuori troppo oh bella azione eccola vorrò con questo e qui finisce il primo tempo 2 a 1 del Bologna cavolo molto difficile eh uff si inizia così valla nostra un pulso insomma bella no lì cru stava partendo a fare ora ripartono loro ripartono loro e come sempre siamo sbilanciati Soriano le ursuline non male se ci sognava così meno male fuori i giochi l'allenatore opta per un cambio per loro come sempre ragazzi murgia parte Cousins Cousins ti prego Cousins ti prego Cousins ti prego Cousins incrocio Cousins ed è 2 a 2 pareggia l'acquisto migliore Cousins mamma mia 2 a 2 dai ragazzi si può ripartire di Francesco ah poggia Petagna che la gira no dai Petagna però sei troppo lento sei troppo uuuu Santander buoni fazzi buoni fazzi murgia ok grazie FIFA di Francesco Cousins 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 per la tripletta Cousins no Dovevo tirar prima dovevo dovevo assolutamente tirar prima Dabo Fares signori Fares Fares a giro si prende cioè ci siamo ancora noi Nuno Tavares Dabo la tiene bravissimo Fares Petagna che non ha fatto un tiro in porta c'è l'attaccante che non fa un tiro in porta Petagna Cousins per la tripletta per la tripletta Cousins Cousins per la tripletta e 3 a 2 e ripartiamo la partita ripartiamo e ora calmi 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 ah ragazzi attaccano loro vicari bravo vicari calcio d'angolo per loro resistiamo non possiamo prendere gol ora non possiamo prendere gol poi diventa difficile rimontarlo toglila 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 sui mamma mia l'ho vista dentro l'ho vista oh mio dio ragazzi che errore che stavamo facendo Dabo Murgia Dernuno Tavares vai Di Francesco vai Di Francesco non te lo puoi rimangiare non te lo puoi rimangiare non te lo puoi torna indietro Di Francesco Di Francesco non ci credo Di Francesco c'è una pippa c'è una pippa porca l'importante comunque che ne hai risultato allora Soriano bravo Murgia dai che ripartiamo dai che ripartiamo dai che ripartiamo dai Di Francesco questa volta non troppo oh mio dio torna indietro è tua è tua per il poker per il poker per il poker tenetela Di Francesco Di Francesco mamma mia Di Francesco vai Tomiyasu dai uno Tavares uno Tavares bravissimo uno Tavares che chiusura signori Murgia Cusens e finisce qui e finisce qui e finisce qui 3 a 2 Cusens bellissima partita mi sa che gli do pure la fascia di capitano perché è veramente forte Cusens un acquisto anche in uno Tavares non è male non è male allora ragazzi per questo video è tutto mi raccomando lasciate like iscrivetevi al canale perché ancora il resto il 28% di chi guarda i miei video non si iscrive è una cosa molto importante quindi a voi non costa niente però mi da molto feedback e nel prossimo episodio finiremo le 10 ore di calcio mercato giocheremo contro Lazio e il Sassuolo poi tra due episodi toccherà Lecce e Piemonte cioè Piemonte calcio e Juventus questo video è tutto alla prossima è